Devo assolutamente fare una premessa, non è una first reaction perché a dire il vero ho registrato per 20 minuti la prima reazione e successivamente ho visto che non stavo registrando lo schermo Ma fatemi sapere però con un commento qui sotto se vi dovesse piacere l'idea di vedere proprio un format dove reagisco proprio a fangame, piccoli giochi o giochi molto interessanti della community su Twitter Perché secondo me potrebbe essere ottimo da parte vostra avere dei feedback miei da sviluppatore di videogiochi ma anche da videogiocatore Quindi fatemi sapere se vi dovesse piacere con un bel like ma soprattutto con un commento Oggi andiamo a vedere ragazzi il fangame di Sonic Ogni male non viene per nuocere, quel video secondo me era molto lento quindi faccio un video più breve ma molto più compatto Non so in quante persone siano che engine hanno utilizzato, se hanno avuto i diritti per fare questa cosa Perché vi ricordo che fare un gioco ufficiale di un brand, di un marchio, in questo caso di un prodotto quindi di Sonic Potrebbe essere rischioso, non so adesso se dietro Sega potrebbe creare problemi, non ne ho la più pallida idea Ma come già potete vedere nei primi secondi il prodotto è incredibile Questo è un video di 30 minuti, non lo vedremo tutto, lo vedremo a step perché voglio farvi vedere anche Cioè guardate anche questa parte dove vibra il telefono, anzi aumento anche il volume Poi Burgo gestirà tutta la parte di audio Il gioco è incredibile Il rischio di fare un gioco di questo genere sono diversi Sono diversi perché nel tempo abbiamo visto team di sviluppo o comunque grandi aziende denunciare fan O multare anche fan per aver realizzato dei fangame Ma in alcuni casi gli sviluppatori che sviluppano giochi di questo genere si prendono il rischio Il rischio perché amano tantissimo il prodotto, amano tantissimo il brand Vogliono fare un gioco solo per puro divertimento senza monetizzare e senza farsi pubblicità Anche se vi dico la verità Se vi faccio un esempio avessi fatto io un gioco del genere avrei mille proposte di lavoro O forse già lavoro nel mondo dello sviluppo di videogiochi Perché quello che possiamo vedere anche adesso ragazzi lo state vedendo Il gioco è di una qualità incredibile Si vede che è un fangame perché come vedremo in alcuni punti ci sono un po' dei buchi Magari a livello estetico e così via Ma solo al fine di creare un prodotto completo Cioè senza perdere tempo nel fare mille cose che non ha senso Ragazzi il gioco è diviso come state vedendo nel video vi lascio il link in descrizione Cutscene quindi con una storia e si parte subito con il gameplay e anche con la pubblicità del video Infatti questo gioco com'è diviso? Animazione di storia quindi cutscene con il livello con l'obiettivo di completarlo il meno tempo possibile Raccogliendo più rings possibili E come state vedendo dall'animazione e dalle luci utilizzate Cioè ragazzi il gioco è incredibile anche dal punto di vista dell'audio Animazioni, corsa, tutto quello che state vedendo Cioè è wow c'è poco da dire Certo adesso vedendo questo livello la gente potrebbe dire E spoglio il livello, manca il level design, manca caratterizzazione dei livelli Non ci sono alberi, non ci sono dei cespugli Ok ma l'obiettivo da parte loro intanto non so in quanti siano Quindi secondo me questo è un dato che dobbiamo tenere stra in considerazione Perché ovviamente non c'è budget Cioè non è che li stanno pagando per fare questa cosa Ma come vedremo in altri livelli Anche se io faccio vedere quando verrà terminato questo livello Qui si vede anche la modalità un po' archeggi di questo videogioco Che hanno preso appunto in questo caso il giocatore ha preso punteggio B Questa parte è molto spoglia come state vedendo c'è time score, time bonus, ring bonus e basta Ecco qui cosa parte Parte un'altra cutscene super interessante, stra bella, vi consiglio di vedere tutto il video Cioè ma nelle animazioni ragazzi fatte come si deve E' ovvio che se fosse un gioco originale fatto dagli sviluppatori Che hanno la licenza di fare un gioco di Sonic E' ovvio che anche nella cutscene magari potrebbe essere più arricchita una parte rispetto a un'altra Quindi uno sfondo e così via Ma è un fan game Cioè e lo devo sottolineare mille volte E' incredibile come un gioco fatto da fan può essere così fatto bene Cioè guardate già il primo livello Il primo livello ha già quella palette colori Che ricorda Sony, stra acceso, stra colorato Ed è wow E ora vi state chiedendo E' vero che basta con mille virgolette Fare il movimento base Anche se non è vero niente Cioè guardate cosa hanno fatto anche qui E anche tutto lo shader Tutte le particelle I colori La pubblicità che sta partendo da 3 secondi Ci sono anche i nemici L'obiettivo come si vede in questo video Che dura 30 minuti Quindi stiamo parlando di 30 minuti di gameplay E fare oggi un gioco con 30 minuti di gameplay Che però ti prende Non è affatto facile Cioè sono 30 minuti di gioco E' metà film Cioè è incredibile L'obiettivo è quello di arrivare al fine livello Cercare di fare più punti possibili E quindi di prendere poi il grado A In questo caso E' vero che molti si stanno chiedendo Una volta fatta la parte basica Quindi l'ancoraggio delle piattaforme L'ancoraggio dei nemici La corsa Queste cose qui Si tratta poi Soltanto con mille virgolette Perché ragazzi non è proprio così Ci sono mestieri che si occupano solo Del design di livelli Del gameplay e così via Basta migliorare il videogioco Ma non è affatto così Perché come si vede in tutto il video A parte che ragazzi Hanno messo anche un boss Quindi riprendendo il discorso di prima Si sono messi a sviluppare un boss Quindi c'è tutta la parte di meccanica del boss Dei path del boss Come state vedendo la barra della vita Che è vero a livello di user experience Tutta la parte di UI in generale E tutto buttato lì a caso Meno tempo ci hanno dedicato Ma va bene Cioè Fangame Ricordiamo questo Il gioco è incredibile Una volta eliminato il boss Anche qui A parte la cutscene Doppiaggio in inglese Con sottotitoli in inglese E poi successivamente ragazzi Siamo dentro l'area 99 Quindi altro livello Altro mondo E così via È vero che In alcuni punti Alcune zone sono molto spoglie Ma come vi dicevo precedentemente Secondo me Non ha senso perdere tempo Nel caratterizzare troppo O comunque lavorare troppo Elementi di sfondo Perché Essendo un fangame Che tra l'altro Ripeto Non so se loro hanno accordi Oppure semplicemente Vanno lì E rischiano Non se ne fregano niente Poi non è detto che Se non monetizzi Comunque non è detto che hai casini Però nel tempo abbiamo visto anche aziende O comunque sviluppatori Che hanno Avuto dei casini in generale A fare dei fangame È un rischio Che lo sviluppatore si prende Come io e Manolo Abbiamo preso il rischio Di fare il gioco di The Boys Abbiamo sottolineato Che era un fangame Non ci abbiamo mai monetizzato I crediti erano nascosti Quindi È importante anche Essere consapevoli di queste cose Avete visto Quando sale la piattaforma Si vede proprio che il coin viene tagliato Quindi non c'è uno studio dietro Non c'è un lavoro dietro Questa cosa qui Ma chi se ne frega ragazzi È un gioco stra completo E in più Non solo La boss fight Ma anche Tutta la parte di animazione E così via Ragazzi Cioè hanno messo anche un livello Dove sei su questa navicella E questo livello tra l'altro Dura tantissimo Sono 5 minuti 6 minuti Di gameplay Con questa navicella Cioè Wow Con la barra della vita Penso a sinistra Infatti Questi qui sono Gli HP Che abbiamo a disposizione Quindi wow Si vede che c'è uno studio dietro E soprattutto ragazzi Dovete tenere in considerazione Che non sono delle persone Che sviluppano giochi Da una settimana Sono persone esperte Sia l'animatorio Comunque Sia il programmatore Non so In quanti siano Sono molto sincero Magari sicuramente Qualcuno di voi Potrà rispondere Nei commenti qui sotto O successivamente Andrò A vedere Maggiore informazioni Come state vedendo Anche la parte Di rimbalzo E' una cosa Molto buttata lì Una soluzione Standard Una soluzione Scotch La chiamo io E quindi provvisoria Wow Questa cosa è incredibile Volevo reagire a questo videogioco Che non l'avevo visto Quindi è stata una reazione Dal vivo Primo impatto Anche se era un video Molto lento Quindi adesso l'ho visto E quindi Cerco di farvi rivedere Quella che è stata la mia prima reazione Io faccio videogiochi 2D Non potrei mai fare un gioco Di questo genere Infatti faccio questa grande premessa Però quello che posso dirvi Perché realizzare un gioco così E' un lavoro veramente grande E' un lavoro che prende Veramente tanto tempo E' un lavoro che Anche se Magari molti dicono Vabbè si utilizza il real E ti dà una mano Con le luce E così via C'è tanto lavoro dietro Tutta la parte di cutscene Quindi tutta la parte di animazioni Che crea una trama Che ragazzi E' una figata Ce l'avete vista Cioè basta stare Due minuti Tre minuti a vedere Guardate qui ad esempio E' molto bello E questa cosa prende tantissimo tempo Soprattutto perché C'è una sceneggiatura C'è una scrittura dei testi Ci vuole qualcuno Che crea una trama dietro Ci sono tante di queste cose Che come state vedendo Più tempo sto qui ad analizzare Più vedo Ruoli Cioè avete visto Avete visto Questa cosa incredibile Che Eggman E' volato dalla navicella Perché è questo mostro gigante E ora stiamo Scappando dal Gnar Che è questo mostro Cioè Wow ragazzi Incredibile E poi c'è anche La scena finale Che Non so se questo è Totalmente tutto il gioco Potrebbe essere tutto il gioco E questo come dice dal titolo È the most impressive Sonic fangame is back Ed è vero perché Credo che Se cerchiamo su internet Fangame Ce ne siano Top 20 fangame Ma Fatemi sapere se vi dovesse piacere Vedere questo video Perché qui stiamo parlando Dei migliori 20 videogiochi Di Sonic Sempre fangame Ma non voglio vederlo Non ho visto niente Quindi mi son fermato A questo frame Fatemi sapere se vi dovesse piacere Questo format Fatemi sapere voi cosa Invece Ve ne pare di Quest'ultimo gioco Che abbiamo visto Andrò a vedere In generale Come hanno fatto a fare Questo lavoro Perché Wow E soprattutto Una volta che tu sai fare Giochi di questo genere L'unico limite È la creatività Perché poi puoi fare Quello che vuoi Ci vediamo domani Con un altro video Ciao Ciao